Benvenuti amici, io sono SalopinPost, oggi siamo al sabato horror con The Twins Nuovo gioco horror sviluppato dagli stessi creatori di Granny ragazzi Quindi saranno i cugini di Granny? Saranno, non lo so, i nipoti? Saranno qualcuno? Non lo so Sappiamo solo che sono due gemelli Allora, e partiamo così Hello, hello pure a te Considerando il tuo livello di crimine, il governo, consultandosi con il giudice Ha deciso la seguente Avrai una chance per ripagare tutto quello che hai rubato durante i tuoi anni passati come ladro Ed evitare la galera Ok Se accetti questa offerta, la tua missione ci aiuterà a rubare molti oggetti di valore Di nuovo, devo rubare? Che è? Mi evito la galera e vado a rubare per voi, fatemi capire A rubare oggetti di valore da i due fratelli gemelli Bob e Buck Quindi si chiamano Bob e Buck Si nascondono in una prigione abbandonata E sono veramente, veramente pericolosi Accetti questa missione? Ma dico, non ho alternativa, altrimenti mi chiudete in galera Vediamo Easy Normal, hard, extreme e practice Ogni volta io metto easy, però qua corrono come due forsennati Vabbè, Bob and Buck moves a bit slower Quindi va bene, le solite cose si muovono lentamente Io sono più veloce, forse Musica, qualità alta, va bene così Si parte ragazzi, nuova serie Mi raccomando lasciate like per una serie su questo nuovissimo gioco horror La tua missione è riportare indietro tre oggetti di valore Quindi sarebbero il diamante, il quadro e cos'è quella? Una moneta E scappare dalla casa attraverso la porta di uscita Allora, Bob and Buck sentono tutto Bellissimo Quindi prova a fare silenzio Ricordati di stare tranquillo Puoi fare del male a te stesso Grazie Quando la tua vita è termina è game over Capito ragazzi? Grande così Allora, iniziamo Forse Ovviamente ragazzi, mi raccomando Supportate sto gioco lasciando like Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questo The Twins Allora, quella è la mia vita E quindi non è a notte, a giorni come siamo abituati Si può? Dov'è che sono spawnato? Mamma mia Ah, sono nel tetto Ci stiamo intrufolando Nella c... Questa posso aprire? No Ok, aspetta Quello l'ho visto Un piede di porco Eh, un ladro che si rispetti Deve avere sempre un piede di porco a portata di mano Ok Entriamo da qua, forse Raspacchiamo tutto Con questo salto Ok, questo mi accovaccio Come un serpente Va bene così Mi posso intru... Intrufolà Sembra la casa di Granny Ma posso... Se mi imbutto che succede? Dovrei cercare Di finire lì A posto Sono ancora vivo, tuttavia Eh... Ladro, per favore Riprenditela L'accrobor Avrò fatto un casino assurdo Giù, guarda lì la porta d'uscita Già mi sono rotto le zampe Guarda lì che danno che mi sono fatto Aspetta un attimo perché Dobbiamo capire qua Allora Chiave Asse Che Ho paura Ovviamente sono due Come su Granny 2 Scantinato Abbassati da cornici Ma che è? Ma questo sarebbe uno scantinato Non mi sembra proprio lo scantinato questo Dov'è che andiamo? Mamma Pure le piattaforme mobile Mi sento su Super Mario Sunshine Cioè Ma dai E su Vai che mi prendete in giro Aspetta Vai piattaforma smuoviti Da dov'è che andiamo a finire qua però? Guardate qui Quello che sto affrontando Dopo 5 minuti di gioco Che ne è me Per te Via Adesso devo saltare lì? No Dimmi di no Non metta a saltare pure in questo gioco Ah arriva Via 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 Vai Ah muoviti 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 Che ce la si può fare Dov'è che sto andando Però non lo so L'importante è muoversi Stiamo scendendo Ovviamente Questo l'abbiamo capito E via che sono arrivato Si muove Posso buttarmi in tranquillità Non proprio in tranquillità Però dico Sono arrivato a destinazione L'importa L'importa Ah prendilo Prendi il mio pedi di porco Per favore Questo è il mio fidato Mi lasci scendere Per favore Prendi sto cacchio di piedi di porco Prendi il piedi di porco Ma che ti prudono le mani Allora Fammi vedere qua Da qua ci si può entrare Da qua Credo Di morire Quindi evitiamo di buttarci a caso O no Perché poi È impossibile risalire Ma non che non risalire Vabbè Infiliamoci da questo Mi lasci in pace Infiliamoci da questo condotto Adesso è chiuso Guarda qua C'è una fessura No Una leva Non avevo visto la leva E quindi Cos'è che ho fatto di preciso Ho aperto i cancelli dell'inferno No Sempre tutto chiuso Quindi posso Ah Adesso posso scendere Possiamo scendere Aspetta Ho visto una cosa orribile Lì sotto Ho visto una cosa orribile Lì sotto Fammi vedere Fammi vedere Mi era sembrato Uno dei fratelli Quello è uno dei fratelli Ma mi stanno Ogni mossa che faccio Mi distrugono In questo gioco Sono morto Mi ha ucciso Quella cosa orribile Che non abbiamo visto Però dico Mi ha ucciso E sono rispavolato qua Ah a posto Grande Ho perso pure Il piede di porco Me ne farò una ragione Allora Munizioni Ho bisogno di un revolver Ovviamente Che non avete messo In questi cassetti Porta Porta E chiusa Tramite elettricità Posso tagliare i fili Però non sappiamo Dove siano questi fili Vabbè Andiamo avanti Io esco da qui Forza Avanti Lento Sto preso Ok Adesso giustamente Scendo da qui E mi spacco altre ginocchia Perché Classico Ma hai le ginocchia Troppo fragili Eccolo la Eccolo Chi sei Buck tu Nel dubbio Una mazzata Te la do Poi chiunque tu sia Pazienza E proprio iniziamo benissimo Vabbè Giustamente La prima partita È sempre così In tutti i giochi Quindi fatemi sapere Nei commenti Se volete Una serie su questo gioco Ovviamente Lasciate like Ragazzi Fate esplodere Quel pollicione In su Così Ah Perché dove andare da qua Ci fate esplodere Quei pollicioni in su Così Vediamo di completarci Sto gioco Allora Fammi vedere qua Là c'è una cosa Un pannello Qualcosa Devo rubare tre oggetti Ancora non ho trovato niente Da qua posso saltare Via Più velo Più velo Piano Bisogna il revolver Piano che ce la si fa Lì c'è la moneta Entra Quanta sei faccia di capra Ma quanto Da una dieci Posso rientrarci lì No Devo ricrepare Qua posso Niente Non posso nascondermi Fammi vedere che c'è Sembra la casa di Granny Ma la ricorda tantissimo Una tazza di caffè La avveleniamo Guarda lì Ha fatto cadere la bottiglia Adesso quelli vengono A posto Veramente Veramente a posto Apri Apri Posso nascondere Troppo tardi Troppo tardi Non mi mazzare da qua Per favore Ciao Eccolo là Lì E giocare Pure elettrificato A posto E giocare con due fratelli Non è proprio facilissima Come cose Allora Mi spawnate lì Giusto Io devo andarmi a prendere la moneta E guarda quanto siete facce di capra Allora Mi hanno spawnato Sono in galera Mi hanno spawnato in prigione Che faccio C'è un modo di uscire C'è qualcosa lì Ecco Suoniamo la campanella Va Magari qualcuno mi viene a liberare Chi è che mi viene Sono chiuso veramente qua Posso infilarmi da queste sbarre Non ci passo Ciao Lei potresti liberarmi Per favore Ah la chiave Da rubo Ok Te la puoi andare Grazie Quello sembra grande In versione maschile Allora Posso uscire Vabbè giustamente Sono un ladro Dico per me Rubare i chiavi È una passeggiata Ok No non cerchiamo più il barattolo Qua Ho bisogno di un hand wheel E dove la trovo Stend wheel Comunque è forte perché avete Molti tentativi Per completare il gioco Perché La vita effettivamente Scala molto lentamente Sono morto già 3-4 volte E sono ancora a metà vita Quindi Secondo me è fattibile L'importante è capire Cosa dobbiamo trovare E dove va utilizzato Giustamente Qua Fico secco Qua Fichi secchi Sempre fichi secchi Ciao Me ne vado Di sopra Me ne vado Me ne vado da qua Chiudi 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 Mi nascondo dentro L'armadietto Via Vai via Ok L'ho seminato Grande così Vediamo Un revolver Mi fate trovare un revolver Ovviamente no Grazie mille Molto grazie Allora Dove è il ramoscello Vediamo di qua Altro armadietto Eh Gli armadietti Per Cosa si può aprire? No Gli armadietti per nascondersi Non mancano Quindi Buono Buonissimo Fammi vedere che c'è qua Sto andando alla cieca Perché mi sono pure perso Non so dove andare Qua Era chiusa qui Siamo nell'altra cella Si può aprire l'altra cella Così Da avere una scorciatoia No Meglio così Me ne vado allora Di qua Vediamo che c'è da questa parte I controlli sono un po' da migliorare Quelli di Granny erano decisamente meglio Secondo me Il quadro Non ti piace? Ho fatto casino Ho fatto casino Aiuto Fammi vedere Ho paura Ho una paura bestiale Che i fratelli non si sentono quando arrivano Però arrivano E vi distruggono la faccia Ecco Siamo praticamente sempre lì La munizione non me la fa prendere Siamo all'ingresso La botola è qua Non lo so Magari riscendiamo lì Non sto trovando niente Non sto trovando La chiave Posso aprire il lucchetto Con la chiave? E ti pareva Se era quella Giusta Via 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 La cucina Che ci faccio in cucina Già ci sono andate in cucina C'è qualcosa Mi infilo d'acqua Va Vai Vai Non c'entra Sono troppo grosso Ah ecco Adesso sto A posto Ecco Tra le mosche va Facciamoci un giretto Tra le mosche Salve C'è niente qua Un madietto Si scende Quanto è grande sta casa Sembrava piccola Laser Se mi abbasso Mi prendo lo stesso Sì Sì Mi sa di sì Ma dai Ma posso strisciare Dai Ma sei un umano Puoi strisciare tranquillamente Com'è che ti fai prendere Da quel laser altissimo Altra morte ragazzi Abbiamo un terzo di vita Anche un quarto Adesso posso tentarci Nuovamente Aspetta un attimo Fammi vedere qua Che là avevo visto un quadro io Un quadro Una moneta Oppure l'end wheel Forza Veloce Veloce Non ti fracassare le zappe Però devo alzarmi Forza Che devo saltare No Oppure no Oppure sì Non lo so Proviamo Magari ci passo lo stesso Non ci passo Grazie Ma era Ma mezzo metro Com'è che ti sei rotto le zampe Da mezzo metro Niente Non c'è verso di prendere Quell'end wheel Vabbè Che faccio allora Me ne riscendo lì sotto Vediamo un po' Vai Scendiamo qua sotto Veloce 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 Voglio vedere che c'è A parte le mosche Via 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 Fammi vedere Scendiamo ancora Facciamo la stessa strada Di prima Andiamo a morire Nuovamente Ah però il laser Adesso non c'è più Grande così Meglio così Grande così E meglio così Qua niente Qua Eh Dobbiamo riempirlo Con l'acqua Perché è lì dentro Guarda qui Questa infamità Eh qua I progetti Eh Del revolver E la venda Eh E quindi Non li prendo Non li sai costruire Te stai Ma che ladro sei Non ti sai costruire Gli oggetti sul campo C'è fratellino No Me ne vado Da lì Dove Da qua Me ne vado da qua Chissà Me ne vado da qua Ma io vorrei andare di là però Visto che lui è lì Lo posso accoltellare da dietro Generalmente i ladri Lo possono fare Però dico Evidentemente questo no Che ladro fa sullo Tizio Ti si vede Posso rubargli qualcosa No Guarda quanto si faccia di capo Guarda Quanto si faccia di capo Siamo morti ragazzi Siamo decisamente morti No Abbiamo ancora vita Dura un casino sto gioco Meglio così Abbiamo più tentativi Eh E sono di nuovo lì sotto Facciamo la stessa cosa Che abbiamo fatto poco fa Dai Spicciati Vieni qua Dammi le chiavi Dammi le chiavi Ok Questa è la chiave di questa cella Quindi una volta che la utilizzo La posso pure buttare Che ansia Dove mi sposto Mi sposto Ci sono i fratelli Ci sono un sacco di posti Da esplorare in questo posto Che c'è Una leva Apriamo tutte le celle Grazie È molto gentile È veramente Fighissimo Grande così L'ultimo scricciolo di vite Ragazzi L'ultimo scricciolo Allora Questa come sempre la buttiamo Dov'è che vado di preciso Tra l'altro Gli oggetti Cambiano di posizione Guarda lì Quello sta salendo Dov'è che vado di Io salgo da qua Io avevo aperto le celle qua No L'ho premuta Qua la leva Che cosa è successo Premendo la leva Eh Si apre la cella Questa O tutte Si aprono tutte le celle Però Nulla di utile No E non sto trovando Nimanca un oggetto Trovata ancora Ma dai In tutte le celle Manca una cosa di utile Ma stiamo scherzando Niente Proprio nulla A meno che posso chiudere Qualche fratello qui Quando entra Però non lo so Se ci entri Chi è? Si seguendo? Mi seguite? Non lo so Se i fratelli Entrano in cella Magari si possono chiudere Fratello Non entra Non entra Viene dritto Verso di me Viene dritto Verso di me Non sono qua No Non sono qua Ma Cos'è che devo fare Di preciso? Non trovo niente Come afferrato Dov'è? Dove sono? Mi sono chiuso fuori Grande questo Bellissimo Grazie per le tue martellate Ma come sei gentile Guarda Proprio Sei un fratello In tutti In tutti gli effetti Morti ragazzi Gustiamoci il finale Che bello Che sei facendo? Il barbecue? E io chi sono? La portata principale? Sempre le martellate Dai tu E cambia arma Eh come sei Game over A posto ragazzi Primo gioco Prima partita Primo game over Ovviamente Come era scontato Che succedesse Va bene Eh se io metto no Che succede? Mi mettono in galera A posto Esce proprio dal gioco Grande così Va bene ragazzi Come sempre Lasciate un bel like O supportate la serie E noi ci vediamo Al prossimo video Iscrivetevi al canale Se non siete iscritti Attivate la campanella E per oggi è tutto Al prossimo video Ci torniamo su Spider-Man Miles Morales Nello scorso episodio Abbiamo iniziato il gioco Abbiamo sconfitto Addirittura il primo boss Rhino È tornato Ma adesso È ritornato in galera Perché lo abbiamo Distrutto